E' venuta questa stronzata della speranza. Intanto stanotte comincia a portare le altre due, che se no le cose non vanno bene. Domani aspetto la terza. Patrimina! Sei l'unico essere umano che conosco. Se va avanti e vuole partorire, è probabile che muro. Questa mi serve. E' mia. Il dottor qua ti aveva sempre detto che era inutile sperare. Invece... Tu perché non chiudi il cesso? Perché io non tengo nessuna intenzione di abortire. Lei non uccide. A me nessuno mi uccide. Ma quello che facevo prima non lo posso fare più. E' ancora a tempo. E' ancora a tempo. Rindo cor. E' co' che uno devo bene e basta. Ma è una brutta fine. E' quando vero non c'è sta ritorno. Il bene dei figli sono le mamme. E' co' che cosa muore ma resta. Resta. Il bene dei figli sono le mamme. Grazie a tutti.